Alcuni influenti popolani si accordano per nominare Dogge Simon Boccanegra, che accetta la nomina sperando di avere modo così di sposare Maria Fiesco, che egli aveva sedotta e che il padre Jacopo teneva per questo prigioniere in casa. Poco dopo Jacopo Fiesco esce dal suo palazzo disperato per la morte improvvisa della figlia, il lacerato spirito del messo genitore. A cantare questa romanza un basso russo, a 30 anni, è nato a Midisci, attualmente è studente presso il Conservatorio Statale di Mosca, sotto la direzione dei maestri Archipova e Lesezian. Accompagnato dalla signora Jelena Gravchenko, a voi Piergay Shegabudin, che canterà il lacerato spirito da Simon Boccanegra. Grazie. 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 Grazie.